Ciao, capo. Ciao, John. Sai già che ci stiamo avvicinando ormai. Mancano un paio di giorni. Vorresti qualcosa di speciale per cena quella sera? Possiamo rimediarti più o meno di tutto. Mi piacerebbe un arrosto e le patate al forno con la salsa dell'ocra. Magari anche un po' di quella buona focaccia che fa tua moglie, se non le dispiace. Non vorresti parlare con un prete, qualcuno con cui dire una piccola preghiera? Non voglio nessun prete. Tu puoi dire una preghiera se vuoi. Io? Immagino di sì, se fosse necessario. John. Devo chiederti una cosa molto importante ora. So cosa mi vuoi chiedere. Non c'è bisogno di dirlo. No, devo farlo. Devo chiedertelo. John. Dimmi cosa posso fare per te. Vuoi che ti faccia uscire di qui? Eh? Che ti lasci scappare? Vedi fin dove puoi arrivare? Perché faresti una cosa tanto stupida? Quando sarò al cospetto di Dio Padre, il giorno in cui mi giudicherà e mi chiederà perché mai io ho ucciso uno dei Suoi veri miracoli viventi. che cosa Gli potrò rispondere? Che era il mio mestiere? Il mio mestiere. Tu devi dire addio, Padre, che hai fatto una gentilezza. Lo so che soffri e ti preoccupi. Te lo sento addosso. Ma adesso però la devi smettere. Io voglio farla finita una volta per tutte. davvero. Sono stanco, capo. Stanco di andare sempre in giro solo come un passero nella pioggia. Stanco di non poter mai avere un amico con me che mi dica dove andiamo, da dove veniamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno agli altri uomini. sono stanco di tutto il dolore che io sento e ascolto nel mondo ogni giorno. Ce n'è troppo per me. È come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre, continuamente. Lo capisci questo? Sì, John. Credo di sì. Beh, ci deve essere qualcosa che possiamo fare per te, John. Avrai qualche desiderio? Non ho mai visto una di quelle pellicole. Non ho mai visto